E' nata coscienza civica per presentarsi il movimento politico che si autodefinisce apartitico a scelto Isernia, il capologo Pentro, dove si vota tra tre mesi e la speranza tra i promotori del movimento di Stefano Testa e Massimo Romano ha sciolto ogni dubbio sulle origini e sulle prospettive. In sostanza coscienza civica si autopropone come un contenitore alternativo sia a destra che a sinistra, un contenitore che vuole attrarre amministratori e cittadini scontenti di una stagione politica dove non c'è più chiarezza né a destra né a sinistra, un'alternativa e le prime adesioni danno spessore alla proposta. Già ci sono cinque sindaci, c'è Gianluca Cefaratti, presidente del Consiglio Provinciale di Campobasso insieme a tanti amministratori, professionisti e gente comune che nutre la speranza e combatte ogni giorno per poter cambiare la realtà della nostra regione, un nome per tutti, quello di Walter Dell'Uomo. Lo stesso simbolo si richiama ai valori più antichi del Molise, c'è stilizzato il teatro sannitico di Pietrabbondante insieme al nome del movimento. Portavoce di coscienza civica è un giovane, già protagonista di battaglie sociali di successo come quella contro le biomasse, Antonio Carlone, sindaco di Campochiaro. Coscienza civica invece nasce appunto per programmare il futuro di questa regione, futuro di questa regione che necessariamente ha un obiettivo al 2018. È un movimento che nasce dal basso, l'abbiamo detto. Coinvolge tanti amministratori locali ma coinvolge soprattutto gente della società civile, imprenditori, professionisti che hanno preso coscienza che è necessario un cambio di rotta ma soprattutto un cambio di rotta per dare un futuro a questa regione che inesorabilmente si sta avviando verso il suo declino. Che vuol dire coscienza civica e perché c'è bisogno di coscienza civica in questo Molise? Perché è senza coscienza? No, sicuramente non è senza coscienza perché i molisani sono coscienziosi. È chiaro che occorre a un certo punto risvegliare anche l'orgoglio dei molisani che in alcune situazioni è stato proprio gettato via e allora occorre ripartire dal territorio. Non per niente anche il nostro movimento non si è organizzato politicamente in modo definito ma andrà al primo congresso in autunno, presumibilmente ad ottobre e lì definiremo i rappresentanti che saranno rappresentanti appunto di tutto il territorio regionale e non soltanto di una parte del Molise. Coordinatore politico di coscienza civica è Giacomo Lombardi, un altro giovane, sindaco di Roccamandolfi. C'era bisogno di questo movimento in questa situazione politica regionale così confusa? Ma assolutamente sì, una vendata di novità, un movimento che nasce dal basso, senza padroni e che vede protagonisti gli enti locali, quindi gli amministratori ma anche la società civile, imprenditori, professionisti per dare al Molise una nuova speranza e quindi una nuova piattaforma programmatica, di idee che poi speriamo si concretizzano con le prossime elezioni regionali. Già ci sono cinque sindaci, il Presidente del Consiglio Provinciale di Campobasso, insomma non è che siete una pattuglia di sproveduti? Assolutamente no, ma noi siamo aperti, questo è solo un comitato promotore, quindi nulla è deciso, invitiamo anche gli altri amministratori ad avere coraggio e ad aderire a questo movimento perché siamo convinti che con una buona politica riusciremo a dare veramente una speranza ai giovani e anche una vendata di novità, quindi un messaggio di apertura a tutti e un invito forte ad aderire al nostro movimento che si tollerà belle soddisfazioni.